TG Web di venerdì 16 novembre, bentrovati a tutti, subito con la cronaca. A Senigallia i gnoti hanno rubato dall'auto di un medico una borsa con vari bollettari e apparecchiature mediche per un valore complessivo di circa 1.500 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando anche di individuare gli autori di un furto di quattro fucili da caccia e di alcuni gioielli trafugati da un'abitazione privata. È crollato due volte il ponte sul fiume Cesano e il commissario della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, punta il dito contro il governo che non ha fatto arrivare i fondi necessari per una ricostruzione adeguata e chiede aiuto alla regione. Dopo il crollo sotto la neve del ponte sul Cesano nel febbraio 2011, le province di Ancona e Pesaro Urbino avevano redatto un progetto preliminare di ricostruzione da 2.650.000 euro con l'impegno da parte dei due enti a coprire parte della spesa. Ma quei fondi non sono mai arrivati per i tagli del governo Berlusconi. Articoli contraffatti al mercato settimanale di Senigallia. Il servizio. Scarpe borse contraffatte e sequestrate ieri mattina al mercato settimanale di Senigallia dalla Polizia Municipale nel corso di un controllo che ha scatenato il fuggi-fuggi degli extracomunitari che avevano allestito delle bancarelle con articoli taroccati tra Piazza Garibaldi e il portico della Filanda. Abbiamo effettuato un sequestro relativo a borse, soprattutto borse contraffatte. Questo è un fenomeno che durante l'inverno è meno sensibile rispetto all'estate, però ci sono delle zone nell'ambito del mercato settimanale del giovedì in cui effettivamente a volte troviamo questo materiale. Chiaramente le modalità di intervento sono sempre abbastanza volte a preservare anche gli utenti del mercato perché a volte abbiamo visto anche in passato che ci sono persone che poi quando ci vedono quando vedono che effettuano delle azioni di intervento si mettono a correre creando a volte anche pericolo proprio per le persone che frequentano il mercato. Il Teatro Portone di Senigallia apre le porte alla sesta edizione della rassegna teatrale La Famiglia va a teatro 2012-2013. La compagnia Il Crogiolo apre la stagione domenica 18 novembre alle 17.15. È di Mondolfo ed è ben pronta per rompere il ghiaccio con la commedia Missione dal Paradiso di Antonella Zucchini. Domenica scorsa la cantina Boccafosca di Pianello di Ostra ha festeggiato il vino novello. Vediamo. Musica, prodotti tipici e un buon bicchiere di vino novello. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la festa del vino novello organizzata dalla cantina Boccafosca Pianello di Ostra in provincia di Ancona il 6 novembre scorso. Giunta la quarta edizione abbiamo voluto farci raccontare da Sonia Riccardi, una dei soci della cantina, lo spirito che sta alla base di questa manifestazione. Questa giornata abbiamo festeggiato il padrone di casa che è il vino novello. Tantissimi amici sono venuti a trovarci nonostante la giornata sia stata estremamente piovosa e l'acquisto del vino deve essere un momento piacevole, deve essere un momento gioviale. Ma prima di gustare il vino dal calice, magari mangiando un buon piatto di pasta, c'è del lavoro da fare. È un'attività che inizia nel vigneto con la produzione di uve di qualità, è un'attività che viene mantenuta all'interno dell'azienda con la lavorazione delle uve, con il minore uso possibile di agenti chimici e poi la buona resa che è quella che abbiamo poi dopo nelle bottiglie. E questo qui è la conclusione del grappolo ed è la conclusione anche della nostra missione, la missione di Boccafosca che è quella di essere nelle tavole delle famiglie, nelle tavole degli italiani, nei ristoranti, nelle noteche. Non ci sono ulteriori notizie di rilievo da evidenziare, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Michele Manoni per la regia e il montaggio e l'appuntamento per la prossima edizione. Grazie a tutti.